Tanto agonismo ma poche emozioni nel derby tra Casette Verdini e Cluentina in prima categoria. Squadre che lottano a centro campo ma che arrivano poche volte dalle parti dei rispettivi numero uno. Nel primo tempo i locali sfiorano il vantaggio con Pier Mattei che su un bel cross di Occhere, il migliore in campo, da pochi passi non inquadra la porta di testa. Gli ospiti rispondono con un bel sinistro di Mancini ma la palla termina al lato. Nella ripresa altre due occasioni una per parte, Occhere a colpo sicuro ma un difensore respinge. Sul rovesciamento di fronte è Tamburrini a sfiorare il gol ma prima Conti para, poi quando la palla sembra terminare in rete un difensore miracolosamente salva sulla linea di porta. Sentiamo i due mister a fine partita insieme a padron Pasquali. Oggi era difficile giocare perché il campo era pesante però i ragazzi sono stati sempre in partita. Prendiamo questo punto e allungiamo la striscia di continuità. In vista anche del prossimo recupero con il Fiuminata molto impegnativo perché oltre alla trasferta naturalmente c'è anche sulle gambe questi 90 minuti. Sì vabbè, quello non è un problema, sono giovani, recupereranno insomma non c'è problema. L'importante è recuperare gli infortunati, oggi abbiamo avuto qualche altro acciaccato però tanto quando arriva a dicembre i campi sono pesanti, muscolarmente si fa fatica e dobbiamo dosare l'energia e faremo girare qualcuno e giocheremo anche la partita di mercoledì. Abbiamo pareggiato fuori casa e per noi è una notizia perché abbiamo sempre perso fuori casa. Abbiamo vinto ma non abbiamo mai fatto un pareggio. Per quanto riguarda la partita, la partita potevamo solo giocarla così visto il campo e anzi a alcuni momenti abbiamo giocato a calcio. Abbiamo avuto secondo me il secondo tempo, siamo venuti fuori bene nonostante loro avevano riposato il turno precedente e siamo usciti fuori, abbiamo avuto la grande occasione di fare golle però ci sta, il pareggio ci sta insomma. Con il presidente Pasquali al termine di questo pareggio per 0-0 del Casette Verdini contro la Gluentina poche emozioni ma molto agonismo in campo, come ha visto la sua squadra? Sì, oggi penso abbiamo disputato una buona partita in due o tre occasioni da golle potevamo essere più incisivi, più decisi perché abbiamo avuto delle palle veramente nette e anche loro comunque sono una buona squadra che penso che rispetta la categoria, insomma la classifica e anche noi cercheremo di agganciare i playoff se ci riusciamo altrimenti insomma cerchiamo di fare un buon camminato lanciando qualche giovane.